Benvenuti a una nuova puntata di Passione Calcio, apriamo la puntata parlando dell'asco di calcio ascoltando l'intervento del giornalista Valerio Rosa. Cominciano ad essere davvero tante le giornate senza vittoria dell'ascoli, una situazione che si è fatta decisamente preoccupante con le altre squadre che stanno comunque cercando di affossare i bianconeri in classifica ed è normale che questi pareggi ottenuti nelle ultime quattro giornate abbiano cambiato pochissimo la graduatoria e quello che si respira un po' in casa Ascoli. Siamo qui ogni settimana a sperare che quella della domenica successiva sia la volta buona per incamerare i tre punti e ripartire un po' in maniera anche abbastanza decisa. Anche questa volta non è andata bene, diciamo anche che è andata bene da una parte perché segnare un gol sul rigore al 95esimo è comunque un segnale di fortuna se vogliamo o quantomeno di speranza. Certo è che ci si aspettava qualcosa di più di una trasferta come quella di Pesaro con una squadra che era in difficoltà a livello di uomini e di disponibilità di giocatori e invece anche a Pesaro si è visto un Ascoli in grandi difficoltà almeno nella seconda parte della gara dopo un primo tempo anche abbastanza accettabile dove i bianconeri hanno sfiorato anche il gol del vantaggio con un colpo di testa di Varone che si è stampato sulla traversa. Dicevo, situazione abbastanza preoccupante perché naturalmente con i tre punti la situazione potrebbe migliorare o quantomeno dare un po' di respiro. Abbiamo riposto tante speranze anche nelle novità che c'erano state nelle ultime settimane la buona lena di Sili, poi il rientro di Tavciar, una certa solidità anche mostrata dalla squadra poi si continuano a prendere gol rocamboleschi e anche abbastanza con tanta tanta ingenuità e questo non aiuta certamente, l'errore di Tavciar sul gol della Vissa è un errore grave però ogni volta ce n'è uno che commette una sciocchezza, una volta a Giappong, un'altra volta a Gagliolo, un'altra volta a Menna e stavolta è toccato, come dicevamo, a Tavciar e quindi questa poca solidità difensiva sta costando molto caro. Davanti Corazza continua a far gol e questa è l'unica buona notizia, una buona notizia che però potrebbe anche un po' preoccupare perché ci sono squadre che stanno mettendo gli occhi sull'attaccante bianconero, squadre di Serie B in particolare che hanno bisogno di uomini gol, di calciatori che hanno una percentuale realizzativa importante e naturalmente il capocannoniere della Serie 5 in questo momento è attenzionato da diverse squadre non è detto che insomma a gennaio il patron Pulcinelli non ceda alle pressioni di qualche squadra importante e che presentandosi i soldi alla mano naturalmente vorrebbe portare via il Joker dalla formazione di Mister Di Carlo in considerazione anche che rientrerà Francesco Forte che insomma nella scuola avrebbe comunque un attaccante da poter utilizzare, questo sarà un po' il discorso che si farà subito dopo Natale per ora c'è da valutare settimana per settimana quello che sta accadendo adesso ci sarà la partita di domenica sera alle 19.30 un orario anche abbastanza strano per la Serie C contro il Gubbio e naturalmente anche stavolta tutti si aspettano di poter finalmente tornare alla vittoria una vittoria che manca da troppi mesi e che sta penalizzando tanto il cammino dei bianconeri approfitto di questo video per fare poi un grandissimo augurio all'amico Remorsini che è responsabile scouting dell'Ascoli Calcio è stato investito l'altra sera sulla circonvallazione all'altezza di Porta Romana mentre faceva jogging è stato travolto da un'auto mentre attraversava la strada al di là delle dinamiche di chi sarà la responsabilità di questo incidente Remo non sta bene, ha diverse fratture, per fortuna non ci sono state lesioni agli organi vitali ma insomma è ricoverata da Ancona e voglio fare veramente un grandissimo augurio di pronta guarigione sperando di rivederlo presto sui campi di calcio l'importante insomma è la salute di ritrovare anche il padron Pulcinelli ha fatto un messaggio oggi di augurio di pronta guarigione al grande mister delle giovani dell'Ascoli attualmente ripeto è responsabile dello scouting è una persona in gamba, simpatica e spero veramente di rivederlo presto proseguiamo la puntata ascoltando l'intervento del giornalista Alessandro Mannotti quarto pareggio consecutivo per l'Ascoli in questo caso dopo un derby contro la Vispesaro una partita dove la formazione guidata da mister Di Carlo ha disputato secondo me una ottima parte di primo tempo diciamo attorno ai 25-30 minuti dove ha avuto almeno tre clamorose palle gol poi ha subito il ritorno della Vispesaro purtroppo come spesso accade il nostro picchio non riesce a mantenere la concentrazione per tutti i 90 minuti tant'è che nella ripresa la Vispesaro che continuava ad attaccare ha trovato il vantaggio con un'indecisione difensiva della coppia Aja-Pong-Tarchar dove lì praticamente il terzino non ha chiuso e Tarchar si mettesse davanti e non lo ha fatto e hanno trasformato Cannavoce, l'autore del gol della Visse, in una sorta di maradona perché lui era da solo contro due difensori dell'Ascoli ha fatto il bello e il cattivo tempo e l'ha messa alle spalle del nostro portiere Livieri secondo tempo dove l'Ascoli mi è piaciuto meno rispetto alla prima parte del primo tempo poi è arrivato in pieno recupero il rigore in favore dell'Ascoli un rigore che io sono onesto, poteva anche non essere fischiato perché diciamo che di contatti del genere in area se ne vedono tanti però è anche vero che l'Ascoli in questa stagione ha subito parecchi torte arbitrale specie, ha subito tanti rigori contro e alla fine è arrivato questo rigore al 92esimo trasformato dal Super Bomber Corazza, 9 gol in questo campionato l'Ascoli è sempre più sulle sue spalle che ci ha portato un punto secondo me importante per come si era messa la gara e quindi l'Ascoli ora sale a 12 punti è a più 4 sul Legnaco che ad oggi è la squadra che retrocederebbe direttamente nei dilettanti e in virtù dei risultati l'Ascoli ha alle proprie spalle il Milan futuro che deve recuperare una gara giovedì e il Sestri Levante se non sbaglio per cui ecco siamo a 12 punti è una squadra quella bianconera che si intravedono sempre dei piccoli miglioramenti ma purtroppo il tallone d'Achille di questa squadra inizialmente si pensava fosse il centrocampo il centrocampo a mio avviso è sguarnito a livello numerico cioè ci sono pochi centrocampisti quindi di Carlo ha poche alternative però la difesa che a inizio stagione veniva accreditata come un buon reparto difensivo non riesce a trovare giusti interpreti vuoi per gli infortuni di Curato vuoi per anche la non prontezza di Menna che a Pesaro ha giocato titolare e poi è stato sostituito non ha giocato granché Menna Quaranta che è un giocatore che ha giocato tante partite in B bistrattato da tanti alterna buone partite a errori abbastanza gravi Gagliolo che a Pesaro diciamo che non ha demeritato il capitano bianconero però anche lui non dà garanzie così come Tapchar che veniva definito come il rinforzo per la difesa bianconera e poi alla prima da titolare dopo tanti mesi di infortunio ha fortemente deluso tant'è che lo stesso Tapchar è stato espulso all'ottantaquattresimo per un fallo evidente era già munito il difensore sloveno dell'Ascoli quindi ecco diciamo che continuo a ripetere questa squadra ha questa bestia nera di non riuscire a vincere se l'Ascoli in casa contro il Gubbio trovasse la vittoria secondo me poi sarà un campionato non dico in discesa ma un campionato alla portata dell'Ascoli per quanto riguarda almeno la salvezza per cui la partita contro il Gubbio diventa fondamentale per la squadra bianconera L'Ascoli non vince più i piccoli passi che muove sia nella fase di gioco che in classifica non mutano che di pochi segni l'entità di questa annata nel girone B della serie C è un trend negativo che perdura da ben 11 giornate dove la formazione bianconera ha raccolto la miseria di 5 punti un trend così negativo da far impalidire anche il più incallito ottimista dei tifosi anche al Benelli di Pesaro dove in vero si è mostrata squadra incerta e faraginosa nel gioco si è visto ben poco una sterilità sia in fase di impostazione che in fase conclusiva solo il gol di Corazza giunto di più sul rigore al 94esimo minuto ha salvato un po' la faccia di una partita che ancora una volta volgeva verso un risultato negativo è chiaro che questa squadra parsa così in colore non deve continuare così e deve destarsi da questo torpore lo stiamo dicendo già da moltissimo tempo i tifosi bianconieri sono abituati a ben altro sono abituati ad annate addirittura a miracolosa contro i blasoni del calcio nazionale e internazionale calciatori da capacità balistica straordinaria il trend negativo come dicevo non è stato mosso dall'avvicendamento dell'allenatore Di Carlo ancora non riesce a far svoltare la squadra il gioco non si vede e dunque la classifica rimane sempre estremamente precaria se consideriamo che solo il Sestri Levante il Legnago, la Spalla e il Milan Futuro navigano nelle stesse condizioni dell'Ascoli ma queste squadre hanno ancora da recuperare delle partite la Spalla è partita con tre punti di penalizzazione ci aspetta ora un semiderby con il Gubbio la squadra Umbra ci precede in graduatoria ed è formazione anch'essa temibile ma sono diventate tutte temibili le formazioni bianconere quelle che una volta erano antagoniste solo per partite di allenamento infrasettimanali oggi sono diventate delle squadre che addirittura superano e battono i bianconeri insomma questo dà un po' la misura della situazione di dove è scivolata questa compagine lontana e ora appaiono i tempi in cui veramente lasciava sognare la tifoseria con delle partite storiche che non andiamo certamente oggi a ricordare perché aumenterebbe un po' il disagio nel vedere questa situazione in classifica dell'Ascoli i playoff che investono quest'anno ben metà classifica appaiono sempre più lontani il campionato sta scivolando via e bisogna veramente più che guardare avanti forse ora guardarsi dietro passione calcio termine qui vi rappuntamento alla prossima puntata se vi è piaciuto mettete un like e seguiteci sui nostri social spartice no game ha presentato il calcio la vera magia passione che brucia tra campo e tifosi con passione calcio siamo tutti gloriosi